4 top 100 mondiali alla Capri Watch Cup, il challenger internazionale ATP del tennis club Napoli che apre la stagione dei tornei europei su terra battuta. Si tratta del numero 57 del mondo, l'olandese Hasse, del numero 92 lo spagnolo Granolers, del numero 93 il bosniaco Zumbur, in grande ascesa che proprio sabato scorso ha sconfitto Rafa Nadal. Il quarto top 100 è il serbo Filip Krajnevic, numero 97 del mondo, 5 gli italiani direttamente inseriti nel tabellone. Interessante il torneo di qualificazione che assegnerà 4 posti per il tabellone principale. Questa mattina la presentazione al tennis club Napoli alla presenza del presidente Serra. Una tradizione si rinnova da 111 anni, non è un numero a caso, è la nascita del tennis club Napoli e ogni anno riusciamo a rinnovare questo appuntamento di tennis con gli appassionati. È la possibilità di vedere giovani talentuosi, tennisti già affermati che sono intorno al numero 50 di classifica, ma è soprattutto una settimana di begli eventi non solo di tennis ma anche di cultura, sociale. Il torneo partirà con le qualificazioni sabato 2 e domenica 3 aprile, lunedì 4 invece ultimo turno di qualificazione, da martedì 5 a giovedì 7 primo e secondo turno del torneo. Da lunedì 4 a sabato 9 il torneo di doppio. Ai nostri microfoni Angelo Chianese, direttore del torneo. Dopo un po' di tempo ricominciamo a giocare il primo torneo sulla Terra Rossa, adesso stanno giocando tutti i challenger sul veloce, se avete eseguito, quindi questo è il primo che incomincia la stagione della Terra Rossa. Quindi è molto importante questo fatto qui perché comunque arrivano tutti i giocatori giovanissimi, quelli che poi dopo in effetti interessano al nostro torneo, perché da qua sono passati tutti i più forti giocatori del mondo, attuali, però erano giovani quando sono venuti qua.